Ciao! La canzone che andremo a interpretare parla della tematica del perdono. Trovo fondamentale per poter crescere, in primi sapersi perdonare perché è la modalità che ci permette appunto di trasformarci e di andare avanti nella vita. Giusto il tempo di perdonarti è un progetto che ho voluto realizzare partendo da questo brano che fa parte dell'album di Selene, L'ora dei fantasmi. In effetti grazie anche a Simona Mondello, la regista, poi mi è venuta l'intuizione di accostare alle immagini il tema del perdono, inteso come una forza trasformatrice. La frase poi che mi ha colpito di più e che mi ha ispirato questo tema è stata appunto una frase di un filosofo contemporaneo che è Antonio Mercurio, che dice che il perdono è una spirale infinita. Ho letto il testo della canzone e ho voluto andare un po' oltre i classici temi di perdono tra uomo e donna, relazioni e così via. E quindi ho pensato a una storia di una bambina che fondamentalmente ha un solo desiderio, quello di passare il più tempo possibile con il padre. Sono un po' tornata indietro anche alla mia infanzia e quindi mi sono sentita di rappresentare questa storia di un perdono, che poi è l'aspirazione massima che ha una bambina nei confronti di un padre che bene o male è assente magari per lavoro, che però le vuole bene, fondamentalmente c'è. Siamo molto soddisfatti sia di Selene e Lungarella che come artista sapevamo che avrebbe retto bene la camera e anche gli attori sono stati bravissimi, c'è stata una bambina, Kaia, che è stata fantastica, non ce l'aspettavamo. La crew è stata molto compatta, il clima è stato veramente ottimo, si è creata una bella sinergia, è stato un bel lavoro. Molto bello, si, molto interessante, abbastanza faticoso, qualsiasi in top come sempre, però è stato tutto molto bello, appagante, molto appagante. 4, 3, prima! L'idea di confrontarsi con una storia che riguarda la memoria, abbiamo cercato di fare poesia con le immagini, in particolare l'idea di questi rami secchi che ci hanno subito ricordato terminazioni nervose, diramazioni dei ricordi. Penso che mi ha insegnato un qualcosa questa mini clip che ho fatto, che alle persone alle quali volete bene ditegli tutto quando ci stanno. Sono esausta, sono distrutta, ma sono la persona più felice di questo mondo. Un bacio! Anzi, a tutti quanti, insomma, io ringrazio tutti. Anzi, a tutti quanti!